Secondo l'Osservatorio dei Consumi Fin Domestic, in Sicilia si è registrato a Siracusa il maggior incremento della spesa in beni durevoli. Palermo e Catania rappresentano quasi la metà dei consumi complessivi, mentre calano Messina, Grigento, Caltanissette ed Enna. In totale in Sicilia nel 2019 la spesa per beni durevoli ha raggiunto i 3 miliardi e 749 milioni di euro, con una crescita dello 0,8% rispetto al 2018. L'analisi evidenzia il dinamismo del segmento delle auto usate, per le quali i siciliani hanno speso oltre un miliardo di euro nel 2019, in aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Bene i motoveicoli, così come il comparto casa, trend negativo invece per l'elettronica di consumo in diminuzione del 5,4% e per l'intero settore tecnologico. Nel dettaglio Palermo è la provincia siciliana dove si è speso di più nel 2019, 963 milioni di euro in crescita dell'1,5% rispetto al 2018. A Catania i consumi di beni durevoli hanno raggiunto gli 841 milioni di euro, secondo solo al capologo siciliano anche per incremento. Messina invece è la provincia siciliana che nel 2019 ha fatto registrare il maggior calo, meno 1,5% rispetto al 2018 e 494 milioni di euro in totale. Siracusa è la prima provincia siciliana per crescita nei consumi, tra il 2018 e il 2019 la spesa è passata da 316 a 325 milioni di euro, con un incremento del 2,9%. Il mercato dei beni durevoli a Trapani nel 2019 è cresciuto dello 0,8%, raggiungendo i 310 milioni di euro, mentre ad Agrigento è sceso dello 0,8%, con 285 milioni di euro spesi. Cala anche Caltanissetta dello 0,7%, con una spesa complessiva di 184 milioni di euro. I ragusani hanno speso nel 2019 241 milioni, con un incremento dell'1% rispetto al 2018. Infine è nella provincia siciliana con la minore spesa in beni durevoli, 107 milioni di euro complessivi, con una flessione dello 0,4% rispetto al 2018.